Eeeh, ha già fatto un annuncio! Sciate voi porcospine è una grandissima luta! Ha fissato un cuo' la ragione a me! Che cosa sto facendo? Ha cacciato chi lupicella brutta, chi ne pilla e si ha fatto una fissata che ho pagato questa ragione! Ha fatto? Tengo uno pesce che è tanto! Io c'ho già fatto schifo! Ma faccio un cuo' a Twitter e scrivo Sciate voi porcospine da nocicinilla che è tanto! Poi resta noce per la secchi e piccerella! Invece non sai che è? Mi tengono fatto a mezzo il coscio che fa paura! Questi amore mio! Tutti punti! Senza spine! Troppo bella! Guardate qua, per un addobbe natale! Sai che vada voglia una mia? E ora sai che faccio? Ma mi chiamo a terra pure tu! Questo è quello che aveva moritato! Un pesciatore laser! Però oggi è variato! Che non sto pesciando a terra! Ma che c'è un coppio! Sto pesciando a luna! Aaaaah! Tu piace? Caccia tu Luca! Io ci fai pesciando l'una! Buon gol oloide! E ora tanti 24 ore prima che andate a busta di pesciazze col pisci a terra! E ora... ...ve la taffa di cuocchino andata a parte! Ha 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 ha!